ciao ragazzi oggi sono super fiero grazie a spin master di presentarvi un'anteprima assoluta qui su giochi per bambini e ragazzi si tratta dei tenkai nights serie appena uscita freschissima in questi giorni su k2 che è stata ispirata da questa tecnologia che si chiama ionix portata per la prima volta sul mondo del giocattolo una vera novità tecnologica da spin master come vedete adesso il mattoncino che costituisce le costruzioni tenkai nights non è realizzato come classici mattoncini quindi statico ma si trasforma in un vero e proprio personaggio d'azione si come vedete si smonta molto facilmente appaiono tutte le articolazioni si inseriscono gli accessori e al termine si ottiene un vero e proprio tenkai night pronto per entrare in azione il cartone infatti racconta le avventure di quattro ragazzi che vengono alla scoperta di un portale tridimensionale che li porta nel mondo parallelo quartor dove trovano il perfido villius che combattono grazie ai poteri che assumono diventando proprio cavalieri tenkai e come vedete è una vera e propria innovazione perché il mattoncino si diventa un personaggio d'azione e in più come dice la confezione stessa per esempio questa è la confezione del tenkai titan tribution questo super bestione qua con tanto di arco lancia frecce l'avete visto anche all'inizio del video come vi dicevo come la confezione cita questi mattoncini sono compatibili con quelli delle più famosi brand al mondo facciamo un esempio che inizia con la L prendiamo uno di questi mattoncini un mattoncino della serie tenkai nights e come vedete combaciano e si incassano perfettamente quindi potete associare ai mattoncini che magari già avete quella che è la capacità di mettersi proprio in azione in movimento e tutte le storie che potete pensare ed immaginare con i cavalieri tenkai ora vedremo la costruzione in tempo accelerato iniziamo subito di quello che è una doppia costruzione ovvero può essere sia un sky griffin quindi una specie di aquila super tecnologica robotica oppure può essere un volt jet questa che vedete adesso anche in questo caso si parte da un mattoncino centrale che si anima diventa quindi personaggio su di esso vanno inseriti i diversi accessori dopodiché abbiamo anche un altro personaggio una base proprio di lancio missili che sta sopra lo stesso e poi il personaggio anche in questo caso uscito dal mattoncino del brick può lanciare tramite una molla azionata con un bottoncino quello che sono dei super super large laser veramente delle costruzioni super nuove avete visto all'inizio del filmato che non c'è solamente non c'è solamente il cavalieri che vi ho mostrato tenkai che è scusate non mi ricordo ancora tutti i nomi di preciso perché ho appena iniziato a spulciare la serie mi sono appena arrivati i giochi che sono super nuovissimi a verissimo arriveranno parlo di giocattoli anche in italia in questo caso abbiamo costruito guardian ma c'è questa confezione con altri personaggi come ballon e brainwolf poi abbiamo visto anche tenkai time di attribution che abbiamo mostrato e poi c'era anche il piccolino os che può essere riunito assieme ad altri personaggi per aggregare il tutto in un unico personaggio robo fusion un'unica astronave spaziale le istruzioni che arrivano assieme ai tenkai knights sono fatte in questo modo quindi passo passo trovate tutte le diverse combinazioni per realizzare il vostro tenkai knight e ah sì vi dimenticavo di mostrarvi come lancia questa vi dicevo è laser con meccanismo molla attenzione che è fortissimo e vi dirò che è arrivato fino a 5-6 metri di distanza questi quindi i tenkai knights seguitemi qui sul canale youtube per sapere quando arriveranno anche disponibili nei negozi soprattutto quando arriveranno anche i prossimi video perché le avventure tenkai non sono finite qua ma ci sono altre costruzioni, giochi d'azione in arrivo e sono veramente molto molto belle alcuni hanno anche le pile ma di più non voglio svelarmi già questa è una super anteprima per commenti potete scrivermi qui sotto nei commenti a questo video mentre per i prossimi video potete iscrivervi qui sopra al canale youtube di giochi per amici e ragazzi cliccando sul bottone apposito che è creato io vi saluto io e i cavalieri tenkai ovviamente vi salutiamo alla prossima ci diamo a un fantastico inseguimento e vi salutiamo ciao ciao davide